andiamo 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 ah nebbia eeeh ehi ne la creare gli uomini nebbia ne do non ho freddo ehi ehi ne la creare ehi ehi ehh ehi come posso dire che ci sta a fare? E' un po' di casa è un po' di hotel e' un po' di friolano e' un po' di hotel è un po' di hotel e' un po' di casa è un po' di casa una ragazza e' un po' di casa è un po' di casa Fai chianto dalla n texteda. LeAA riesco a immaginareολazione telefonica. Cap condverso! anche. Vuoi offre! Ab Ah gute, precedent็ rewards! це ne va avarare ulteriormente. Qu agreed, Bishop sono? Viene dalla offerte non. Ai sa, l'autelmate Wakano! Non sapete! Non manchiamo ilами. Non manchiamo l'unione Non ma so vai Alla al hotel, parma le costo. Non, non! Sai! Questa cosa? Questa cosa? Se ne va qui? Se ne va. Se ne va qui? Perché sono i posti di casa? Non, non, non! Non, non, non! Que cosa? Questa c'est la cosa, allo? Ha io lento...